Il Festival è un festival di carattere internazionale che coinvolgerà orchestre, artisti provenienti da varie parti d'Europa ed extraeuropee e un festival che coinvolgerà in modo particolare i giovani sia come protagonisti dal punto di vista esecutivo, quindi orchestre giovanili, artisti giovani, ma coinvolgerà anche i giovani, quindi studenti, in modo particolare gli studenti del liceo musicale Pertini in attività musicali che saranno in qualche modo integrate all'interno del festival che vedrà anche gli studenti dell'orchestra giovanile del liceo musicale Pertini esibirsi in una giornata dedicata ai giovani che è quella del 29 aprile 2019 presso Palazzo Ducale.